Due nuovi progetti per l'associazione Autismo fuori dal silenzio, la fattoria sociale e gli orti sociali saranno gli obiettivi per il nuovo anno. Grazie al sostegno di tutti e all'impegno dei volontari dell'associazione, i bambini autistici potranno veder garantito un futuro migliore. I genitori potrebbero così veder concretizzati i principi immaginati dalla legge del dopo di noi, avviato anche il nuovo tesseramento. Questa forma di progetto serve a far sì che loro possano vivere un loro ambiente, avere delle mansioni e riuscire a riconoscere tutto ciò che gli viene insegnato da piccola fino all'età adulta. Per cui avere una dimora fissa per loro dove possono gestire le loro esigenze in un modo importante ed avere anche un impegno personale, avere un'attività, una funzione da poter svolgere in questa fattoria sociale. Una fattoria sociale che nel suo insieme comprende anche delle attività che fanno sì che la stessa possa portare delle risorse all'interno del circuito di attività. Bisogna innanzitutto trovare il terreno, poi iniziare a realizzare una struttura all'interno che sia una struttura studiata, progettata proprio per le finalità dei nostri ragazzi adulti. Gli orti sociali non sono altro che l'assegnazione da parte di un ente che in questo caso è il comune a cui abbiamo già inoltrato noi domanda per avere un appezzamento di terra che ci servirà proprio per aiutare questi bambini ad imparare. Quindi orti sociali per quanto riguarda l'integrazione e l'inclusione. Aiuto da parte, non so, di anziani, quindi interazione degli anziani con i nostri bambini, il tutto sempre comunque supervisionato da esperti del campo, quindi analisti del comportamento e tutor sempre secondo tutte le regole dell'analisi del comportamento applicata. Orti sensoriali, i bambini possono toccare, sperimentare. Tutto questo va inserito nel progetto ancora più grande nostro che è quello della fattoria sociale. Nella fattoria sociale poi ci sarà anche una parte ludica, cioè abbiamo intenzione di mettere a disposizione quello che è un parco giochi per i bambini.